Un saluto da Altigi della Mobilità per lavori sulla rete elettrica via Salaria è chiusa in direzione centro da via Panama a via Bruxelles e anche da via Yeiser a via Leliegi. Il cantiere è previsto sino a fine giugno, possibili percorsi alternativi per aggirare il cantiere sono la svolta a destra su via Panama in particolare per andare verso Piazza Ungheria e tornare sulla Salaria. Inoltre in questa fase di cantiere è anche temporaneamente possibile la svolta a sinistra su via Chiana per chi è diretto a Piazza Buenos Aires. E per seguire delle potature ancora per oggi dalle 10 alle 15 il tratto compreso tra via Ponte Salario e Piazza Priscilla sarà a senso unico in direzione del centro. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.